Il pari contro la Virtus Francavilla, conquistato in extremis grazie a Garofalo, complica la corsa playoff del Foggia, che sarà costretto a vincere domenica in casa contro l'Avellino per essere sicuro di rientrare nella gradatoria spareggi. Impresa tutt'altro che facile, visto che l'Avellino viene dal 3-1 con la Vibonese, è al momento secondo alla pari con il Catanzaro e deve difendersi dal Palermo, che dista solo un punto. Il Foggia deve necessariamente ritrovare la brillantezza che aveva prima del Catanzaro, a patto che alcuni suoi uomini superino il momento no. Tra tutti Peterman, che contro la Virtus non ha espresso il proprio potenziale, ma sulle cui idee e geometrie, Zeman punta per smistare palloni importanti in mezzo al campo e in avanti. I tifosi del Foggia vorrebbero poi capire di che pasta è fatto realmente Andrea Di Grazia, considerato quest'estate come uno degli acquisti più attesi, ma finora falcidiato dagli infortuni. E le speranze rossonere portano i nomi di Merola, forse l'attaccante più in forma del Foggia in questo momento, Garofalo, autore del prezioso pari in extremis sabato a Francavilla Fontana, e Alexis Ferrante, la cui presenza è ormai fondamentale per dare peso e incisività all'attacco. In mezzo c'è l'attesa per la restituzione dei due punti di penalizzazione al Foggia, che dovrebbe arrivare in settimana. Se così non dovesse essere, ha già fatto capire a chiare lettere il presidente canonico, si avvierà una fase di ricorsi che potrebbe addirittura bloccare i play-off. I tifosi, demotivati dopo la brutta sconfitta contro il Catanzaro e i sei punti persi per strada a causa dell'esclusione del Catania dal campionato, ci credono ancora, ma dovranno fare i conti con la squadifica delle due curve fermate da giudice sportivo dopo gli episodi che hanno visto come protagonista l'ex Pietro Iemmello. Proprio Iemmello è tornato a parlare a mezzo stampa, affermando come non sia giusto criticare un'intera tifoseria per alcune intemperanze di pochi. E chissà che il destino non rimette di nuovo contro al suo Foggia ai play-off.